Nessuno poteva prevedere che il mercato globale sarebbe impazzito. Abbiamo affrontato un mare in tempesta già a fine agosto, racconta Teodoro Lonfernini, per gestire l'emergenza è stata rinnovata la strategia contrattuale, garantendo l'approvvigionamento di gas per sei anni, ad un quarto del costo di oggi. Un risultato di cui Lonfernini va fiero, a cui si affianca la partita per l'energia elettrica. Stiamo acquistando per il 2023 la copertura del 53% del fabbisogno, a prezzi, precise segretario, compatibili con le logiche di mercato, dai 70 euro chilowattore del 2021 a 127. L'anno prossimo saranno 158 euro. Si guarda al futuro, per non ripetere gli errori del passato. Se fossero state aggiornate gradualmente le tariffe, afferma, forse oggi avremmo potuto incidere in altro modo. Gli aumenti dal 25 al 35% sono già in applicazione dal primo dicembre. Ora aspetta la politica a sostenere imprese e famiglie, pensando ad esempio al frazionamento dei pagamenti. Qui sta molto il lavoro della politica e delle istituzioni nel tirare fuori un provvedimento normativo che possa essere uno strumento adatto a disposizione dell'azienda di Stato per i servizi pubblici per andare incontro a chi avrà più bisogno. In campo poi la strategia sulle infrastrutture per recuperare il tempo perduto. L'acquisto di acoluce gas costa lo Stato 50 milioni l'anno. Quello che dobbiamo mettere in campo oggi e farne un lavoro di sistema è una rinnovata attività progettuale sulla rete idrica integrata e sulla fonte alternativa solare del fotovoltaico. Presto pronta una relazione di sistema con focus sulla capacità di approvvigionarsi in maniera autonoma, coinvolgendo proprietà sia pubbliche che private. Solo in questo modo, con questa grande sinergia, possiamo mettere in efficienza massima la nostra capacità di approvvigionamento. Tutte le operazioni dell'azienda, chiarisce il direttore Raul Chiaruzzi, nascono per garantire la fornitura, non per fare ricavi migliori. L'AS sarà sottoposta ad audite esterna per un'indagine a 360 gradi. Rappresenterà, dice il presidente Francesco Raffaelli, uno spartiacque. Pochi servizi che danno utili, ma il bilancio assicuro è sotto controllo. Noi abbiamo chiesto odora, tutti i mesi, il controllo della liquidità dell'azienda, il controllo dello stato di fatturazione e poi faremo anche un'attività di intervento sui cattivi pagatori, cioè chi deve dei soldi all'azienda. Per Lonfernini non è concepibile che un solo servizio inutile traini gli altri. Da qui l'impegno sull'utilizzo delle risorse derivanti dall'attività di trading nel pieno rispetto della Convenzione con l'Italia. Quello che ci viene concesso come fase, diciamo, in più rispetto al nostro fabbisogno verrà impiegato esclusivamente per le realtà infrastrutturali di ammodernamento delle reti del nostro Paese e attraverso quelle invertire completamente la logica di economia circolare da un punto di vista energetico.